Quante risposte ci ha dato questa dodicesima giornata di campionato ragazzi e quante domande ci ha fatto venire per il futuro? Una domenica e un sabato di Serie A molto 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 intensi che hanno dato fine ad alcuni tormentoni come ad esempio la storia d'amore tra Garzia e Napoli e hanno acceso nuove speranze per tantissime squadre. È crollato il Bologna dopo dieci giornate senza sconfitte, Fiorentina che si è avvicinata ed è stata l'unica delle otto sorelle a poter sfruttare gli errori delle big, un derby di Roma senza tantissime emozioni, terminato 0-0 e Inter e Juve che volano a braccetto verso la conquista del prossimo scudetto. Chi invece deve fare i conti con un periodo no sono Milan e Napoli, comunque squadre che stanno avendo un'involuzione, il Napoli l'ha avuta definitivamente e probabilmente, anzi sicuramente cambierà guida tecnica solamente da vedere ovviamente chi sarà il sostituto di Rudy Garzia. Milan che un'altra volta, come è successo proprio contro il Napoli, da un risultato di vantaggio 2-0 si fa recuperare e rischia anche di perdere una partita a Lecce che poteva compromettere non poco questa giornata. Il Milan è poi stato fortunato perché dietro sia Napoli ma anche l'Atalanta non hanno sfruttato, diciamo, questa giornata per riportarsi in alto e quindi diciamo che è passato un pochino in secondo piano. La realtà è che ci sono squadre in grandissima difficoltà, ci sono squadre che aleggiano nella parte di mezzo di questa personalistica classifica, squadre che vogliono essere grandi o vogliono tornare ad essere grandi. Quindi, prima di cominciare ragazzi e parliamo un po' di questa giornata di Serie A, vi chiedo di lasciare un like, iscrivervi al canale, condividere il video, attivare la campanellina e voglio personalmente ringraziarvi per la compagnia che ci avete tenuto ieri in live durante il derby della Capitale. Mi dispiace non aver potuto creare contenuti sull'Atalanta, sulla Fiorentina e sull'Inter ma ero distrutto, ragazzi, completamente. Detto ciò ragazzi, Inter e Juve, assolutissimamente binomio perfetto per andare a conquistarsi questo scudetto. Due facce della stessa medaglia, due opposti, sia nella proposta di gioco che nella mentalità, ma due squadre con un unico obiettivo, che sono tra l'altro le protagoniste del derby d'Italia, ovvero la vittoria dello scudetto. L'Inter è la più lanciata per tantissimi motivi perché oltre ai risultati riesce a mantenere uno standard tecnico e un gioco di assoluto livello e ieri contro il Frosinone, che è comunque una squadra che ti può mettere in difficoltà, giocando un'ottima partita ha trovato poi le magie e la freddezza dei suoi giocatori talentuosi perché poi alla fine è questo, è un Inter che gioca bene, è un Inter che ha quel qualcosa in più proprio nel DNA e poi dal punto di vista tecnico è superiore alla media. Il gol che fa ieri Di Marco è la dimostrazione di come l'Inter, anche se non è il caso specifico della partita di Frosinone, può giocare male perché intanto poi, ecco vedi, un singolo può risolverti la partita in un momento o all'altro. Quindi l'Inter ha la capacità di giocare bene e dominare le partite e anche la capacità di giocare meno bene, ripeto non è il caso di ieri sera ma in generale, e avere poi l'uomo che te la risolve. Fu Di Marco così anche ad Empoli, no? Se ve lo ricordate. E ha risolto una partita che comunque poteva essere scomoda e abbiamo visto poi il percorso che ha fatto l'Empoli, che ha vinto a Firenze e ha fatto i suonare Carzia ieri. Quindi per capire un pochino la dimensione. Mentre la Juve mi sembra la più solida, nel senso la più solida perché comunque non essendo anche spettacolare, però è di un'efficacia incredibile, straordinaria e questo la rende unica e soprattutto molto pericolosa, dato che non ci sono le coppe e sappiamo quanto possa essere importante tutto questo. Perché comunque ci ha dimostrato che il percorso che sta facendo, a parte qualche piccolo intoppo, è sicuramente di altissimo altissimo livello. Cade il Milan secondo me invece, cade il Milan perché non perde ma comunque cade. Cade e sbatte su Lecce al Via del Mare, condizione che non è simile a quella del Napoli ovviamente, ma anche qui secondo me si vedono i primi scricchioli di un'era e di un percorso che probabilmente è terminato. Stimo molto Violi e stimo quello che ha fatto, però credo che stia un pochino perdendo le redini del gruppo e le redini un pochino anche dal punto di vista tattico. Secondo me c'è qualcosa che non va, anche a livello mentale il Milan soffre determinate circostanze perché non puoi fare un primo tempo del genere e poi un secondo, cioè due squadre completamente diverse e non sono le fatiche europee perché comunque aveva cambiato il giusto anche Pioli, ma secondo me è proprio una questione di mentalità che sta avvenendo meno o comunque c'è una distrazione generale che poi complica determinate partite e complica discorsi scudetto perché comunque il Milan ha perso altri punti, l'Inter e la Juve non sbagliano un colpo ed ecco di lì che poi dall'essere prima magari due giornate fa adesso sei a meno 8 dall'Inter e a meno sei dalla Juventus e questo ci fa capire che comunque vedendo il percorso che stanno facendo Inter e Juve tu rischi di essere pericolosamente tagliato fuori. Stessa cosa che succede per il Napoli ragazzi, il Napoli che perde un'altra partita al Maradona, non riesce a vincere un'altra partita al Maradona e probabilmente il gol di Kovalenko è il punto da game, set e match. Credo che il Napoli viderà su Tudor perché Conte non dà la disponibilità, Cannavaro e Mazzarri sono idee ragazzi che non vorrei nemmeno toccare perché Cannavaro non lo conosco come allenatore e secondo me non è il profilo adatto pur essendo della città e comunque legato emotivamente al Napoli e perché Mazzarri ragazzi ormai? Cioè sarebbe una minestra riscaldata assurda e ridicola che credo metterebbe ancora più in difficoltà l'ambiente Napoli. E Tudor che è la soluzione più importante del quale parleremo sempre in giornata in un altro video, credo che sia il giusto allenatore da prendere in considerazione dopo questa parentesi garziaca che non è stata fortunata e che è terminata nel peggior modo possibile perché in questo modo qui è veramente 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 difficile da digerire. È difficile da digerire perché poi una partita che comunque il Napoli ha giocato nel senso che poteva segnare, poteva fare gol, ha trovato un ottimo Berisha, un Empoli organizzato e poi il più classico dei gol all'ultimo minuto di quando il pallone non vuole entrare e poi alla fine paghi. Paghi con un super gol di Covalenco che appunto ripeto dà il game set and match a Garzià che non sarà al 99% l'allenatore del Napoli dopo la sosta. E quindi il profilo di Tudor secondo me, però poi ne parleremo meglio, potrebbe essere il giusto compromesso per questo Napoli. Per poi ragazzi passare ovviamente alla Fiorentina che è la squadra che più di tutte hanno usufruito di questo passo falso di alcune squadre e si è portato a meno uno della zona Champions. Una Fiorentina buona che ha vinto una partita difficilissima contro un Bologna che non perdeva dalla prima giornata di campionato. È una partita bella dove Bonaventura ha dimostrato ancora una volta di essere un giocatore importantissimo e fondamentale per questa squadra. E poi con il gol di Nico Gonzalez che ha avuto un inizio di stagione fantastico e che ieri poi con il rigore trasformato ha portato tre punti importantissimi alla Viola. Chi invece non ha sfruttato l'occasione probabilmente è stata l'Atalanta che poteva ad oggi con i risultati che poi sono usciti fuori essere la nuova quarta in classifica. Non ha sfruttato questo pomeriggio di calcio per arrivare lì, però è una squadra che ragazzi ha tantissime soluzioni. Ha tantissime soluzioni e vedendo il tentennamento di alcune e vedendo a che punto è l'Atalanta, secondo me al momento è la squadra favorita per occupare quella posizione lì. Perché vedendo un po' anche le Romane e la fatica delle Romane, il Milan comunque fa parte delle prime tre, il Napoli in queste condizioni, la Fiorentina che è forte ma non è solida dal punto di vista mentale come l'Atalanta, credo che possa sfruttare questo momento per cercare di mettere punti in cascina molto importanti per il futuro. Quindi Fiorentina-Atalanta nonostante i risultati diversi, secondo me sono due squadre che godono di ottima salute e che possono impensierire davvero le altre per la zona Champions. Io credo questo fermamente. E poi finiamo con le Romane, le Romane che si sono affrontate nel derby di pomeriggio, un derby che abbiamo visto in live e che non ci hanno levato assolutamente alcun dubbio che avevamo prima della partita. Nel senso hanno giocato una partita discreta, una partita in cui comunque si sono affrontate a viso aperto ma non troppo, una partita in cui secondo me ha fatto meglio la Roma per quello che è la Roma, nel senso per come poi va a giocare le gare la Roma di solito. È stata molto coraggiosa, ha cercato di prendere la Lazio alta, nei primi 20 minuti ha rischiato di far veramente male ai biancocelesti, poi la Lazio uscita ha avuto due grandissime occasioni, il palo di Rissalberto e la superparata di Rui Patrizio sul colpo di testa di Romagnoli, però poi poco altro. Poco altro per poter definire una migliore dell'altra o una uscita da un periodo così e così che dura però secondo me ormai da inizio stagione. Ha detto bene Murigno, questa Roma, e poi ieri lo dicevamo con il profe, non avesse perso i primi punti nelle prime due giornate, oggi sarebbe quarta del campionato o addirittura terza, quindi non è tutto da buttare quello che è stato fatto, la Roma la squadra ce l'ha e secondo me è un'altra delle favorite per il quarto posto. La Lazio invece la vedo più indietro, ma la vedo più indietro per un semplice motivo, è dietro da un punto di vista mentale, anche ieri secondo me l'approccio della Lazio non è un approccio giusto per una gara del genere. Poi è uscita fuori con la tecnica, però secondo me è quella che più di tutte sta faticando. Questo ragazzi era un po' il commento generale alla dodicesima giornata, ditemi nei commenti la vostra, non so se sempre in mattinata o nel pomeriggio uscirà il video relativo all'esonero di Garzia e al possibile Napoli di Igor Tutor. E niente ragazzi restate aggiornati, attivate la campanellina così non vi perdete nessun contenuto. Buon lunedì mattina a tutti, buon lavoro e insomma qualsiasi cosa dovrete fare e un grande abbraccio dal vostro Andrea.